Ciao creatora, oggi guardiamo le offerte McKennedy American Way, scopri il sogno americano specialità a stelle e strisce del Lidl offerte valide da lunedì 22 ottobre 2018 sediti qui accanto a me, guardiamole insieme allora abbiamo, ce ne sono pochi quindi sarà una cosa breve ma intensa, spero che ti faccia rilassare bullet pork, si dice bullet? vabbè, quindi arrosto di carne suina marinato a 3,99 euro carne di tacchino sfilacciata a 3,99 euro e gotolette di suino in marinatura a 3,99 euro abbiamo quelle piccanti, avremmo, penso, quelle classiche pisse farcite, sono tutti McKennedy ricche di sapore, abbiamo spicy, peperoni peperoni, sì, ok? quelle che praticamente ha il salamino piccante e poi quiz cos'era, boh, cheese qualcosa con tanto formaggio a 1,99 euro e a 2,29 euro invece abbiamo la pizza farcita con sfilacci di manto peperoni verdi e salsa barbecue poi abbiamo le tortillas, tortillas, non so come si chiama farcite a 2,49 euro con chicken salsa, lime and pepper, beef e veggie, credo sia qualcosa falafel forse poi abbiamo le cipolle in panatura croccante croccante, croccante a 1,29 euro i filetti di pollo con panatura con salsa di balcherri a 3,99 euro i filetti di carne suina fumicati a 1,99 euro questi filetti qua che galleggiano in questa acquetta così non so cos'è, non mi fanno tanta voglia poi le salse con cipolle al cavolo bianco o barbecue a 1,29 euro poi la pancetta affumicata al miele buona questa, l'abbiamo già provata 2,49 euro il formaggio cuta a fette a 1,79 euro poi c'è il condimento per insalata in diversi gusti non riesco a leggerteli, mi dispiace a 0,99 poi abbiamo i bagels in diversi celebri varianti che non riesco a leggere a 0,99 euro le cipolle arrosto ideali su hot dog e hamburger a 0,79 euro poi questa che mi era piaciuta molto le strisce di carne bovina e sticcata mi era piaciuta molto, molto, molto quella super piccante questa non c'era proprio su quella originale quella piccante quindi andrò a prendere questa perché non c'era a 1,29 euro popcorn caramellati quelli dolci a 0,99 euro poi c'è la confezione quella da 200 grammi in sacchetto invece questa è la confezione di popcorn caramellati dentro la secchiella 250 grammi 1,99 euro la birra d'off che ho bevuto è una classica birra in qualsiasi però è birra d'off quindi fa figo perché è quella dei Simpson 0,79 euro niente di speciale poi abbiamo gli snack di mais e rachidi che sono molto buoni a 1,79 euro poi snack di patate provo a tutti i diversi gusti questi non li ho mai assaggiati questi sì ma questi non li ho mai trovati quindi se li trovo li prendo a 0,99 non riesco a leggere i gusti però insomma se c'è qualcosa di interessante lo andrò a prendere questi qua sono buonissimi questi sì abbastanza questi qua che non si vedono ma io so quali sono sono buoni poi abbiamo le arachidi racchiuse in croccante pastella di diversi gusti avevo preso queste al wasabi mi erano piaciute molto a 0,79 questa mi sa che è tipo qualcosa su tipo barbecue se è barbecue qualcosa mi fa buone poi passiamo alle cose dolci abbiamo i brownie però è torta torta al cacao ricoperta con glassa di cacao a 2,99 euro sta nel banco frigo poi abbiamo come quella cameo però la versione di mckennedy pizza chocolate and cookies che è tipo la pizza cameo al cioccolato è a 1,99 euro che però non mi fa molta voglia perché secondo me sto mancosa yogurt stile americano molto più di un semplice yogurt a 0,49 già assaggiato buonissimo qui dice che c'è non riesco a allora io ho assaggiato quello al cookie e quello al cheesecake ma se non sbaglio le altre volte ne avevo assaggiato anche altri due tipo questo era chocolate muffin se non sbaglio e quello è al toffee dovrebbe essere quello ma non so perché da qua non riesco a leggere poi a 0,69 c'è il milkshake ha di vari gusti che è praticamente un vorabè drink cremoso a base di latte di diversi gusti poi abbiamo cheesecake tipo mini pozioni nelle varianti ribes nero fragola a 1,79 euro poi abbiamo i mini brownies che li assaggerai questi a 1,29 euro tortine al cioccolato con nocciole o con fiocchi di cioccolato assaggerai quelle con le nocciole preparato per muffins a 1,49 euro classici al cioccolato con mertilli e poi abbiamo i mini muffins torcetti con pezzetti di cioccolato a 1,49 euro credo siano tutti preparati non so se questi sono proprio mini muffins o questi sono cioè non lo so comunque non quello è un preparato questi saranno mini muffins dentro una confezione non ne ho idea poi c'è cheesecake nelle varianti limone mirtillo o lampone a 1,69 euro questi fanno voglia country cookies irresistibili dolci biscotti in tre diversi gusti a scelta 1,49 euro fanno voglia anche quelle le jelly beans che sono immancabili ci sono sempre mi pare di avvedere c'è sour and sweet credo due gusti diversi di solito c'è solo una tipologia adesso non ho cambiato caramelle gommose i differenti gusti alla frutta a 1,29 euro poi succo di più frutti a 1,79 euro c'è scritto di più frutti ma mi pare di vedere che ci sono una mela qua ma non so non ne ho idea comunque marshmallow barbecue a 1,29 euro sono quelli da fare sul fuoco poi il burro d'arachidi che me lo prendo ogni volta che c'è quello crunchy quello normale il mio preferito è quello crunchy a 3,49 euro preparato per pancake per realizzare 12-14 pancake aggiungi 400 ml di latte 200 grammi alla confessione 1,49 euro poi ci sono anche i pancake già pronti sul gelato se non sbaglio da servire con pezzetti di frutta fresca e sciroppo d'acero e ovviamente sciroppo d'acero che io non ho mai assaggiato e penso che comprerò è immancabile sui pancake a 3,79 euro credo sia l'ultima cosa sì ok 10 minuti giusto grazie per questo era l'ultimo prodotto non ce ne sono altri di dell'american way qua della mckennedy nel catalogo e nel dapplian dell'idl quindi concludo qui il video spero che ti sia piaciuto che ti abbia fatto rilassare o che comunque ti abbia intrattenuto grazie per continuare a seguirmi se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale ciao creatura buonanotte ciao creatura